il bastone bianco ci rende super visibili e la cosa che dicono tutti a vi vedo sempre passare ma come vedo sempre c'è un po inquietante questa cosa sono quello che state facendo saresti più insensibile cosa vuol dire vi presento tanti non vedenti che sono veramente dei scarponi che hanno la sensibilità dei scarponi su delle uova bell'angolino qua tu hai mai chiesto quelli che non ci hanno visto come vedono le persone io di sicuro le vedo le vedo che si muovono me lo immagino nella mia testa faccio un film anch'io sono comito di vedersi però quando poi prendo contro un pallo di cavolo vero non si vede ma anche qui non serve male andare capo orno queste cose face in capizze figlie per esempio ci facevano sempre la domanda ma siete tutti così